Unire le forze per un progetto sicuramente ambizioso, New Team Ragusa e Atletico insieme per un campionato di prima categoria di vertice. A Marina di Ragusa la presentazione ufficiale della squadra, la presenza dei dirigenti e dei giocatori. I presupposti sono quelli di fare un campionato sicuramente per arrivare almeno tra le prime cinque. Ecco abbiamo composto una rosa completa in tutti i reparti e quindi ci auguriamo di fare veramente un buon campionato. Il messaggio è quello di rappresentare una città e quest'anno facciamo dieci anni e quindi vogliamo dire a tutti che siamo una realtà che nel tempo è riuscita a essere una certezza. E quindi oggi semplicemente vogliamo rappresentare questa unione di forze che c'è stata fra noi e l'Atletico Ragusa. Questa unione che si chiama New Team che quest'anno fa dieci anni e che quindi vuole raggiungere dei risultati ambiziosi. Presidente, un campionato da protagonista quest'anno? Ma noi ci speriamo. Abbiamo tutti i mezzi, stiamo facendo il possibile per cercare di fare un bel campionato e di centrare gli obiettivi che quest'anno ci siamo proposti di attuare. Questa unione di forze sarà sicuramente la spinta in più per la New Team? Sì, quest'anno abbiamo avuto questa possibilità con un'unione di intenti fra persone, fra giocatori e fra due società e quindi questo ci porterà ad avere maggiore equilibrio nella nostra società e soprattutto cercheremo di fare il salto di qualità quest'anno. E' un organico molto competitivo per un campionato di prima categoria? Sì, abbiamo dei giocatori che sicuramente non sono di questa categoria, però nel contesto abbiamo tutti i giocatori che sono bravi nei quali ruoli e anche nel settore giovanile abbiamo fatto dei buoni acquisti. Quest'anno si parlerà a lungo di questa squadra? Noi lo speriamo, sinceramente. Gli obiettivi sono ambiziosi e stiamo provando di cercare di dare qualcosa di importante per Ragusa e la città di Ragusa per quanto riguarda il calcio. Speriamo di riuscire nell'intento di portare avanti il nome di Ragusa il più alto possibile. L'unione di forze e soprattutto l'unione di due gloriose società? Sì, quest'anno abbiamo unito le forze con l'Atletico, con parte di giocatori e dirigenti dell'Atletico che ci ha permesso di portare un apporto sia per quanto riguarda i giocatori e per quanto riguarda anche i dirigenti. Speriamo che questo possa servire per migliorarci e crescere sempre di più. In un momento di grande difficoltà del calcio a Ragusa ovviamente la New Team sarà una parte importante di questo progetto. Sì, date le esperienze passate qui a Ragusa riguardo il calcio speriamo appunto di dare qualcosa di sano a Ragusa e sarà difficile però noi, ecco quest'anno ricorre il decimo anno per esempio, noi siamo qui da dieci anni, dieci anni che cerchiamo di dare qualcosa di importante e riusciremo a farlo, speriamo, speriamo bene. Ma speriamo quest'anno vogliamo fare davvero il salto di qualità, siamo attrezzati per farlo, finalmente abbiamo unito le forze perché Ragusa forse mancava una situazione del genere, siamo contenti sia la parte vecchia della New Team che la parte nuova dell'Atletico, finalmente abbiamo una rosa adeguata, speriamo solo di fare bene. Domani iniziamo la preparazione, in virtù del campionato dovrebbe iniziare il 20 settembre e poi comunque è sempre il campo che deciderà il tutto. Come diceva Daniele abbiamo unito le forze appunto perché eravamo due belle verità qui a Ragusa e quindi i nomi sulla carta ci sono, ora vediamo in campo di dare il massimo e andare a fare un buon campionato, iniziare già in buon inizio campionato. Grazie a tutti i nostri amici.